Finalmente si torna a fare punti Sì, era da tanto che incappavamo in sconfitte consecutive e anche se ormai il campionato per noi è deciso, siamo contenti e cerchiamo di onorarlo fino alla fine Di testa non è fatta prendere neanche una Bielanovic? Diciamo che è una delle mie caratteristiche, quindi se manco la prendessi di testa penso non giocherei a pallone Ti sei sentito un po' un maestro con on day? Sì, fa piacere avere a fianco ragazzi più giovani, certo che in partite di Serie B avere a fianco un ragazzo del 93 è uno stimolo Penso che abbiamo fatto bene, a parte in occasione del gol, però ci sta qualche disattenzione Come si fa a resistere per così tanto tempo in difesa? Come ho detto prima, cerchiamo di onorare il campionato al massimo Era la prima volta che giocamo con questa difesa, ma siamo rimasti compatti con la voglia di far punti Anche se per noi il campionato è deciso, però ci abbiamo messo tutto